Questi invece sono gli ultimi miei quadri, io considero piuttosto importanti e per me molto divertenti. Chiamo quadri quadrilateri, perché io dico sempre il quadro uno lo conto perché gli piace, poi lo attacca via, poi si abitua al quadro anche lì così, poi non si accorge più che c'è qua. Sa che c'è il quadro che gli piace, ogni tanto gli danno un'occhiata. Allora questo quadro comincia a girare a quattro lati. Allora questi sono i giardini della mia infanzia, se voi ci guardate, sono le strade di campagna, quando noi da ragazzi siamo andati in campagna dallo zio prete, no? E c'erano le diverse coltivazioni, le diverse cose. Adesso c'è un suo ritmo, adesso voi lo guardate così, cambia completamente. C'è un altro ritmo che questo è verticale, ma è orizzontale. I colori si spostano e tutto è come una componizione musicale che si comincia. E se tu lo giri ancora così cambia ancora. Ma vedi che cambia ancora? Si ravviva, cioè si rinnova il dialogo fra te e il quadro. Grazie. 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 Grazie.